Annabeth. Dopo la caduta nel Tartaro, un salto di cento metri verso la dimora della notte avrebbe dovuto essere una cosa rapida, ma il cuore di Annabeth parve rallentare. E fra un battito e l'altro, lei ebbe tutto il tempo di scrivere il proprio necrologio. Annabeth Chase, morta a 17 anni. Boom! Sempre che il suo compleanno, il 12 luglio, fosse già passato mentre lei si trovava nel Tartaro, ma sinceramente non ne aveva idea. Boom! Deceduta a seguito delle gravi ferite riportate, saltando come un idiota nell'abisso del caos e spiaccicandosi sul pavimento dell'atrio della dimora di Nyx. Boom! Lascia il padre, la matrigna e i loro due figli, che la conoscevano a malapena. Boom! Non fiori, ma donazioni al campo mezzosangue, sempre che Gea non l'abbia ancora distrutto. Atterrò sul solido. Un dolore tremendo le salì lungo le gambe, ma dopo qualche passo varcollante si mise a correre, trascinandosi dietro Persi. Sopra di loro, nelle tenebre, Nyx e i suoi figli si accapigliavano e gridavano «Gli ho presi! È il mio piede, smettila!» Annabeth continuò a correre. Non vedendo niente, tanto valeva chiudere gli occhi. Utilizzò gli altri sensi. L'udito per l'eco negli spazi aperti, il tatto per le brezze che le soffiavano sul viso, l'olfatto per fiutare qualsiasi traccia di pericolo. Fumo, veleno o puzza di demoni. Non era la prima volta che precipitava nell'oscurità. Immaginò di essere tornata nelle gallerie sotto Roma mentre cercava l'Atena Parthenus. A ripensarci bene, il viaggio nella grotta di Aracne sembrava una gita Disneyland. Il rumore del battibecco fra i figli di Nyx si allontanò sempre di più. Bene! Persi correva ancora al suo fianco tenendola per mano. Un altro punto a suo favore! In lontananza davanti a loro, Annabeth cominciò a distinguere un suono palpitante, come se il battito del suo cuore producesse un'eco talmente amplificata da farle vibrare il terreno sotto i piedi. Quel suono la riempì di terrore, perciò doveva essere la strada giusta. Si precipitò in quella direzione. Man mano che i battiti si facevano più forti, Annabeth percepì un odore di fumo e un crepitio di torce sui due lati. Intuì che dovesse esserci della luce, ma un formicolio sul collo l'avvisò che sarebbe stato un errore aprire gli occhi. Non guardare, disse a Persi. Non ci pensavo neanche, replicò lui. Lo senti, vero? Siamo ancora nella dimora della notte. Non voglio vederla. Che ragazzo sveglio, pensò Annabeth. Lo prendeva sempre in giro dicendo che era tonto, ma in realtà il suo istinto di solito ci azzeccava. Qualunque orrore ci fosse nella dimora della notte non era fatto per occhi mortali. Vederlo sarebbe stato peggio che fissare il volto di Medusa. Meglio correre al buio. Il battito si fece più intenso. Le vibrazioni si ripercuotevano lungo la colonna vertebrale dei due semidei. Era come se qualcuno bussasse sul fondo del mondo per chiedere di entrare. Annabeth percepì che le pareti si aprivano su entrambi i lati. L'aria era più fresca, o perlomeno non altrettanto carica di zolfo. Udì anche un altro rumore, più vicino del battito. Un rumore di acqua corrente. Il cuore cominciò a galopparle all'impazzata. Sentiva che l'uscita era vicina. Se fossero riusciti ad abbandonare la dimora della notte, forse si sarebbero lasciati alle spalle la sua oscura progenie di demoni. Annabeth si mise a correre più veloce. Se Percy non l'avesse fermata, sarebbe morta.